Il lavoro prima di tutto nel giorno dello sciopero dei sindacati di base della CGL prepara la mobilitazione del 16 novembre, mentre la CGL si riunisce a Pizzo per gli stati generali e c'è chi, come un ferroviere di Reggio Calabria, viene licenziato a 63 anni dopo le sue battaglie contro l'amianto. Professione killer tra i 10 e i 14 mila euro, tanto sarebbero stati pagati i due presunti assassini di Giuseppe Canale, ucciso a Reggio nel 2011. Stamattina la DDA li ha arrestati, insieme a loro in manette anche i mandanti del delitto pianificato e realizzato in risposta all'omicidio di Domenico Chirico. Attenzione per la Calabria, ospite nei nostri studi il nuovo vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, Roberto Chiuto, commenta la sua recente nomina e su una possibile candidatura alla Regione ne conferma, ne smentisce. Rendere sta secco e crisi idrica nel comune del Campagnano, il sindaco chiede alla storica di aumentare le forniture, ma la società non ha le riserve necessarie. Eroi di Calabria, la Brigata Catanzaro, una storia di eroismo durante la Prima Guerra Mondiale, ricordata a Catanzaro la presenza del Presidente Emerito del Senato, Franco Marini. Buonasera ai telespettatori di Laci, dunque questi i principali argomenti del nostro telegiornale. In apertura all'ampia pagina del lavoro a Pizzo si sono riuniti gli stati generali della Cisla, la presenza del governatore Mario Oliverio che ha rassicurato i lavoratori precari. Il servizio dalla Regione mi dicono che il servizio ancora non è pronto, continuiamo a parlare di lavoro, CGL e USB in piazza, sempre per i temi del lavoro, stamani a Catanzaro lo sciopero dei sindacati di base, a scalea la presentazione della manifestazione promossa dalla CGL per il prossimo 16 novembre. E' sempre il lavoro a tenere banco nel dibattito regionale, perlomeno nell'agenda dei sindacati. Stamani a Catanzaro i lavoratori di tutte le categorie pubbliche e private sono scese in piazza per lo sciopero generale, indetto dall'USB, l'unione dei sindacati di base. Al centro della protesta ancora la riforma Fornero, il Jobs Act, le difficoltà del pubblico impiego e il calvario ventennale dei precari Isu ed Ibu. Abbiamo i lavoratori di Crotone, faccio un esempio, della provincia che sono stati buttati fuori dal circuito lavorativo e sono in mezzo alla strada. I lavoratori a Vibol ce li abbiamo sopra i tetti, i lavoratori della vigilanza a Catanzaro licenziati e non pagati non sappiamo come bisogna fare. Noi oggi facciamo sciopero generale e nei prossimi giorni ci impegneremo perché i lavoratori riprendono la loro dignità, perché non è possibile vivere in questo paese con un contratto di lavoro scaduto da nove anni e non rinnovato. E di lavoro si è parlato anche a scalea nell'ambito di un'iniziativa promossa dalla CGL. In vista della manifestazione regionale del 16 novembre, la cittadella regionale, a chiamare a raccolta iscritti e cittadini il segretario regionale, Angelo Sposato. Noi abbiamo il 16 novembre avviato questa prima manifestazione in Calabria su più temi. Il lavoro del precariato è la cosa principale, ma ci sono anche altri temi importanti come gli investimenti, la salute, il welfare, le riforme istituzionali di cui la Calabria ha bisogno, i giovani che se ne vanno dalla Calabria, la sanità che è un tema molto sentito, però quello del precariato, del lavoro, per noi diventa un fatto importante. Da Caranzaro e Scalea per la Cineus 24. Torniamo agli stati generali della CISL che si sono riuniti a Pizzo, l'incontro che vi ho annunciato in apertura. Andiamo a vedere che cosa ha detto il governatore Mario Oliverio ai lavoratori precari presenti. ormai non abbiamo più fiducia di niente, non crediamo più a niente. Io sono uno di quelli che vado in bottega per dirgli fammi credito finché mi pagano. Questa è la nostra situazione. Offriamo servizi ai vari comuni, però gratuitamente, perché fino adesso non abbiamo percepito niente. La rabbia comprensibile dei lavoratori, l'ennesima mobilitazione dei sindacati, le rassicurazioni della politica per i precari è un copione recitato centinaia di volte, quello andato in scena alla tornara di Pizzo, sede della manifestazione regionale promossa dalla CISL per fare il punto sul versante lavoro. Un'impresa titanica in una regione eletta terza in Europa per tasso di disoccupazione dall'ultimo rapporto Euro, stata un 64% appesantito dal precariato, dal lavoro sommerso, non regolarizzato e non retribuito. Come CISL stiamo chiedendo da tempo il vario di un piano straordinario per il lavoro e l'occupazione che guardi a quattro grandi priorità. La nuova occupazione soprattutto per i giovani, le donne ed anche per frenare questa costante emorragia di giovani che lascia la nostra regione per andare a cercare un futuro altrove. All'incontro è intervenuto il presidente della regione Mario Oliverio che ha voluto sottolineare i passi avanti fatti sul piano della regolarizzazione delle migliaia di lavoratori per cari calabresi, una questione che si trascina da due decenni che richiede non solo risposte certe ma tempi brevi di attuazione. Abbiamo già convocato l'incontro con le organizzazioni sindacali per il nuovo contratto che bisogna dire ha registrato notevoli ritardi da anni ma adesso siamo nelle condizioni di fare anche quest'altro passo perché abbiamo garantito le risorse. Per dei lavoro il ferroviario di Reggio Calabria è conosciuto da anni per le sue battaglie contro l'amiantro nel sito di Via Mercalli. La CGL lancia dei sospetti e si schiera con lui licenziato a 63 anni. Signor Nino oggi al lavoro? E oggi no purtroppo perché mi hanno fatto un bel regalo il 28 di ottobre e l'azienda mi ha licenziato. Il ferroviario Lino Pulitano dopo 43 anni e 8 mesi di servizio non ha più un lavoro. È abituato alle battaglie contro Trinitalia ma a 63 anni certo non pensava nella veste di delegato della CGL di dover arrivare fino alla contestazione di un licenziamento. Pulitano è convinto che l'azienda gli abbia dato il ben servito come effetto di una lotta che il sindacalista porta avanti da anni nella veste di delegato per la sicurezza sul lavoro. È stato stabilito dalla Procura della Repubblica con i rilevamenti che sono stati effettuati che ci sono 34 tonnellate di Ethernet. Le mie denunce iniziano da circa due anni anche se precedentemente avevo avvisato l'azienda non denunciando solo segnalando la presenza di questo materiale sulla tettoia. Però niente è stato fatto da anni che ci battiamo. Alla sospetta ritorsione contro il sindacalista scomodo credono anche alla CGL visto che questo è l'ultimo di una lunga serie di atti punitivi. Sembra strano che ci siano sette provvedimenti disciplinari in un lasso di tempo breve, relativamente breve, poco meno di un anno. Per questo noi abbiamo sospetti, non possiamo avere certezze ovviamente. Per Trinitalia Pulitanova è licenziato per via di un certificato medico non chiaro e il sindacalista di Reggio Calabria sarebbe il primo ferroviere italiano che perde il posto per una X scritta a penna sul documento di un medico. Anche questa è una marabbeffa su cui ora sarà il tribunale a doversi pronunciare. Agostino Pantano per la CNews24. La cronaca ci porta a Reggio Calabria dove la DDA ha fatto luce sull'omicidio di Giuseppe Canale avvenuto il 12 agosto del 2011 nella città dello Stretto. Un delitto considerato eccellente e maturato in un contesto di grande tensione criminale dell'epoca. Arrestati, mandanti e killer. Ucciso perché ritenuto e responsabile dell'omicidio del boss Domenico Chirico. E questo è il movente che ha armato la mano dei killer che il 12 agosto del 2011 hanno freddato a colpi di pistola a Giuseppe Canale nel quartiere di Gallico Superiore, periferia nord di Reggio Calabria. Canale, accortosi dell'azione di fuoco ai suoi danni, tentò la fuga disperata lanciando anche un cassonetto dell'immondizia verso i sicari, che però lo raggiunsero e lo finirono con un colpo alla testa. Nel corso dell'omicidio venne ferito di striscio anche un passante. Già dalle prime intercettazioni, dopo il delitto, vennero fuori le tensioni interne alla cosca Condello, dopo gli arresti dell'inchiesta Meta. Un riequilibrio che portò dapprima all'uccisione di Chirico e poi, come risposta, a quella di Canale. In manette, nella qualità di mandanti, sono finiti Domenico Marcianò, Sergio Iannò e Filippo Giordano. Salvatore Callea, invece, ebbe l'incarico di reclutare i killer provenienti dal Vibonese, ossia Nicola Figliuzzi e Cristian Loielo, pagati a rate per eseguire il delitto. Proprio le dichiarazioni dei pentiti Vibonesi e della Piana, assieme alle investigazioni degli uomini dell'arma, hanno consentito di giungere alla responsabilità penale dei sei arrestati di questa mattina. Nel corso delle perquisizioni, i carabinieri hanno rinvenuto all'interno del Parco della Mondialità di Gallico, luogo di ritrovo per bambini, il revolver Colt calibro 38 utilizzato per l'omicidio, rinvenuti anche ordigni da utilizzare a scopo intimidatorio ed altre armi. La collaborazione di oggi fra i comandi provinciali di Vibo Valencia e di Reggio Calabria ha consentito di identificare gli autori e i mandanti di quell'omicidio. Consolato Minniti per la CNews 24. Ma chi sono i due presunti killer Vibonesi reclutati per uccidere Giuseppe Canale? Ecco il loro profilo. Killer pagati e retribuiti. Oggi 27 anni, all'epoca dei fatti poco più che 20 anni. Sono volti noti alle cronache giudiziarie del Vibonese, quelli di Cristian Loiello e Nicola Figliuzzi, entrambi di Gero Carne e coinvolti nell'operazione antimafia della DDA di Catanzaro denominate Grinja e Romanzo Criminale. Avrebbero preso parte a diversi fatti di sangue sul mandato del clan Patania di Stefanaconi. Impegnato in una faida contro il gruppo Bartolotta e contro i Piscopi Sani, il clan della frazione Piscopio di Vibo Valencia. Cristian Loiello è stato condannato in primo grado all'ergastolo quale esecutore materiale dell'omicidio di Giuseppe Matina, alias Grinja. Fatto di sangue commesso il 20 febbraio 2012 a Stefanaconi sul mandato del clan Patania. Assolto invece, unitamente a Nicola Figliuzzi, dal tribunale di Vibo dall'accusa di associazione mafiosa nel processo Romanzo Criminale. Figliuzzi è stato però ritenuto responsabile di altri due fatti di sangue. Il tentato omicidio di Francesco Scrugli, avvenuto a Vibo nel febbraio del 2012 a pochi passi dalla questura, e per il quale la responsabilità è stata sancita in via definitiva, e l'omicidio di Giuseppe Matina, per il quale ha rimediato una condanna a 20 anni. Oggi i nuovi arresti da Reggio Calabria, con un'accusa altrettanto pesante, presunti esecutori dell'omicidio di Giuseppe Canale. Giuseppe Baglivo per la Cineus 24. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato la proroga dello stato di emergenza già dichiarato nel territorio delle province di Crotone e Reggio Calabria, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 24 al 26 novembre del 2016 nel territorio delle province di Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria, e nei comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce, in provincia di Cosenza e di Vazzano, in provincia di Vibo Valencia, nei giorni dal 22 al 25 gennaio del 2017. Andiamo avanti la politica. Il nuovo Vice Presidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera, Roberto Chiuto, ospite dei nostri studi, commenta la sua recente nomina e la possibilità di una prossima candidatura alla guida della Regione. Onorevole Chiuto, regentissima la sua nomina Vice Presidente di Forza Italia alla Camera, un attestato al lavoro svolto? Sì, e speriamo sia di buon auspicio per il futuro, soprattutto speriamo che contribuisca a dimostrare che anche la Calabria può avere classe dirigente, classe dirigente di qualità, capace di farsi apprezzare nel resto del Paese. Io sono particolarmente contento perché sono entrato a legislatura in corso, però pure in un gruppo importante dove ci sono molti ex ministri, ex sottosegretari, sono riuscito a conquistare la fiducia, l'amicizia di tanti colleghi e quindi sono grato loro, al Presidente Brunetta e anche al Presidente Berlusconi che ha voluto questa nomina. Questa nomina è il frutto anche di un'attenzione che il Partito riserva alle Regioni Meridionali, in questo caso alla Calabria? Sì, peraltro stiamo lavorando insieme a Iole Santelli al programma di Forza Italia per il mezzogiorno. Un capitolo importante sarà quello dello sviluppo del Sud. Vogliamo dire al Paese che non c'è possibilità di far aumentare il prodotto interno italiano se non si investe laddove c'è un differenziale maggiore. Ma gli occhiuto, si candidano alla guida della Regione? Beh, intanto lavoriamo sulle politiche, abbiamo la consapevolezza che i calabresi si aspettano molto dal centro-destra per quanto ci riguarda ci stiamo preparando non solo a vincere le elezioni ma se possibile a governare bene questa Regione. Tante volte in Calabria chi ha vinto ha vinto solo per i demeriti di chi ha governato prima. Noi vorremmo avere l'ambizione di vincere anche per i meriti che il centro-destra ha e credo che soprattutto a Cosenza nel governo di questa città il centro-destra si stia segnalando come una coalizione eccellente dal punto di vista della qualità amministrativa. Stefano Mandarano per la CNews24. Ancora la politica l'entrata in vigore del badge elettronico per i dipendenti delle strutture politiche del Consiglio regionale scatena la polemica tra la deputata 5 Stelle Dalila Nesci ed il questore dell'ufficio di presidenza Giuseppe Neri. Timbrare il cartellino in entrata e in uscita è quanto dovranno fare i dipendenti delle strutture politiche del Consiglio regionale che sino ad oggi per certificare la propria presenza sul posto di lavoro si limitavano a firmare un registro. Una vera e propria rivoluzione per centinaia di lavoratori che però potranno continuare con il vecchio metodo almeno sino al 30 giugno del 2018. Un ritardo stigmatizzato duramente dalla deputata del Movimento 5 Stelle Dalila Nesci che ha prima accolto la notizia con sarcasmo congratulandosi con quella che ha definito la casta più all'avanguardia del mondo e poi parlando di scandalo nazionale alla luce del sole sul quale deve indagare la procura di Reggio Calabria. Una posizione che ha innescato la replica del segretario questore dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale Giuseppe Neri del PD che a sua volta ha accusato la parlamentare di tropea di populismo e demagogia sottolineando che l'introduzione del tesserino rappresenta un grande passo in avanti che mette fine a una prassi ereditata dal passato. Parole che sono state definite dalla parlamentare di tropea una toppa peggiore del buco i calabresi a concluso Nesci hanno diritto di sapere chi sono quanti sono e quanto costano i dipendenti delle strutture politiche del Consiglio regionale. Enrico De Girolamo per la Cineus 24 Nella città capoluogo di Regione la storia dell'eroica Brigata Catanzaro protagonista nella prima guerra mondiale al convegno il governatore Oliverio e l'ex presidente del Senato Franco Marini Il coraggio della Brigata Catanzaro è sostenuto ed accettato in Italia nelle battaglie durissime nelle trincelle della grande guerra tutti sanno che è stata una grande esperienza militare. Franco Marini già presidente del Senato attualmente a capo del Comitato per gli Anniversari di Interesse Nazionale ha dato un peso maggiore alla celebrazione degli episodi eroici della Brigata Catanzaro durante la prima guerra mondiale all'istituto Scalfaro della città dei Tre Colli grazie al progetto promosso dall'istituto calabrese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea presieduto da Pantaleone Sergi sposato dalla regione Calabria attraverso le immagini di una pagina di storia che ha segnato la nostra regione agli studenti sono state raccontate le gesta eroiche dei soldati al fronte e quindi l'ammutinamento della Brigata uno degli episodi più gravi di rivolta di tutta la guerra una Brigata che è stata eroica le sue bandiere sono state decorate quella del 141 con la medaglia d'oro quella del 142 con la medaglia d'argento il 42esimo ha tre medaglie d'oro tra le quali quella del calabrese Gaetano Alberti sindaco allora di Mormanno che morì nel 15 e poi fu vittima di due decimazioni Catanzaro una Brigata di Valorosi ricordata anche da uomini che stavano lì hanno combattuto c'era D'Annunzio che era un poeta oltre che un combattente e tutte le volte che capitava diceva quei due reggimenti di fanteria valorosissimi dei Catanzaresi poi anche Corridoni che è un eroe una medaglia d'oro che era un sindacalista rivoluzionario dopo aver militato dentro il reggimento 142 della Brigata Catanzare in una lettera che è inviata la famiglia dice qui si muore però mi trovo in questo valore strepitoso importante realtà dei giovani calabresi Rossella Rossella Galati per la Cineus 24 e a Vibo Valencia è inaugurata la nuova sede delle professioni tecniche insieme ad architetti ed ingegneri saluti e scambi di battute poi il taglio del nastro che inaugura la nuova sede degli architetti e ingegneri della provincia di Vibo Valencia un appuntamento importante impreziosito dall'apertura al pubblico della mostra il codice delle meraviglie l'inaugurazione di una sede è sempre il momento in cui c'è e si nota l'importanza e la presenza degli ordini provinciali sul territorio il momento in cui gli iscritti trovano ritrovano una casa comune l'inizio di un percorso quello odierno che oltre mille tra architetti e ingegneri potranno vivere insieme per concertare azioni finalizzate allo sviluppo del territorio questo è fondamentale per affrontare assieme temi comuni e anche per rivolgersi poi alla politica in maniera unitaria perché se andiamo tutti divisi chiaramente la politica non ci ascolta ecco compenso e tutela del lavoro autonomo manderemo messaggi forti e chiari che non è pensabile che i professionisti lavorino gratis questa è una cosa gravissima quello che è successo a Catanzaro con la sentenza del Consiglio di Stato sul piano regolatore praticamente ad un euro di compenso è una cosa scandalosa in merito alla quale tutte le professioni sono assolutamente contrarie Rosaria Giovannone per la Cineus 24 da vent'anni è abbandonata all'incuria al degrado presto diventerà un centro specialistico per malattie cardiovascolari da Caolonia il nostro Ilario Balì il direttore amministrativo dell'ASP di Reggio Calabria Elisabetta Tripodi e il direttore sanitario Pasquale Mesiti hanno effettuato stamani un sopralluogo nella struttura del poliambulatorio di Caolonia Marina da vent'anni abbandonato all'incuria e al degrado presenti al briefing il sindaco Caterina Belcastro il vice sindaco Domenico Campisi gli assessori Tucci e Cavallo e i consiglieri Cannizzaro e Franco l'idea è quello di riconvertirlo in centro specialistico in malattie cardiovascolari con un finanziamento di oltre 600 mila euro tra le parti si è subito palesata grande corrispondenza di intenti e pertanto si è decisa vista la confermata disponibilità economica dell'ASP di iniziare le procedure burocratiche che porteranno all'ultima azione dei lavori sarà cura dell'azienda sanitaria provinciale destinare lo stabile all'accoglienza di servizi specialisti tematici che nel rispetto delle linee programmatiche territoriali della regione Calabria miglioreranno le condizioni generali della medicina di base e di conseguenza della salute dei cittadini Ilario Balì per la CNews 24 torniamo a parlare di siccità Rubinetti a secco arrende ormai da diversi giorni il sindaco chiede alla Sorical di aumentare le forniture ma la società non ha le riserve necessarie l'acqua scovre a singhiozzo dei Rubinetti in alcuni casi l'erogazione è talmente misera da non consentire neppure il riempimento delle cisterne condominali la siccità continua a mordere nonostante l'arrivo della stagione delle piogge le rotture lungo le condotte idriche ne amplificano gli effetti nelle case dei cittadini arrende interamente dipendente dall'acquedotto della Batemarco la carenza del prezioso liquido ha assunto livelli insopportabili sono soprattutto le contrade di Roges e Quattromiglia a soffrire con danni importanti per alcune categorie commerciali bar lavanderie e parrucchieri si arrangiano come possono un problema proprio gravissimo perché siamo cioè da due mesi senza acqua cioè stiamo perdendo clienti soldi e tutto il resto stiamo riempiendo dei bidoni abbiamo una piccola cisterna di 500 litri ma cioè non ci facciamo niente bimbi a casa abbiamo e ci staccano l'acqua ad attività artigiana che è una cosa che serve l'acqua e poi è un bene di Dio è da mesi ormai che siamo in tilt il sindaco Manna prova a correre i ripari e messa una ordinanza per obbligare la Sorvical ad aumentare la portata ad un livello superiore ai 200 litri al secondo sarebbe questa la soglia minima individuata dal comune per scongiurare ripercussioni sulla salute e l'igiene pubblica c'è un problema di scuole c'è un problema quindi anche di salute pubblica si tratta davvero di una situazione estremamente seria e su questo la Sorvical è stata invitata a non ridurre la portata sotto i limiti indicati le riserve di acqua disponibili però non consentono alla Sorvical di aumentare la pressione senza causare danni agli altri comuni serviti dalla Batemarco si lavora allora sulle perdite presenti anche nel territorio di Rende per recuperare il quantitativo necessario a riportare il prezioso liquido in tutte le case Salvatore Bruno per la Cineuse 24 la cronaca un'anziana di 90 anni è stata tratta in salvo questa mattina dagli agenti della polizia di Cosenza dopo l'incendio scoppiato nella sua abitazione all'origine del fuoco probabilmente dell'olio fuoriuscito da una pentola che la donna aveva messo sul fuoco bene questa era l'ultima nostra notizia io vi ringrazio per aver preferito la nostra informazione adesso vi lascio la nostra Maria Chiara sigillò per la rubrica la C-Sport buon proseguimento Buonasera da Maria Chiara sigillò ben ritrovati alla C-Sport in primo piano il calcio è tempo di tornare in campo per la serie C e per la serie D partendo dai professionisti con l'aiuto della videografica vediamo il turno completo della quattordicesima giornata di campionato Matera-Trapani Monopoli-Rende Fondi-Sicula-Leonzio Siracusa-Lecce Cosenza-Juve-Stabbia Casertana-Paganese Fidelisandria-Bisceglie Virtus-Francavilla-Akragas Catania-Catanzaro e passiamo invece ai dilettanti al prossimo turno la dodicesima giornata di serie D Ercolanese-Messina-Ebolitana-Gelbison Igeavirtus-Roccella Isola-Caporizzuto-Cittanovese Nocerina-Portici Paceco-Gela Palmese-Troina San Cataldese-Acireale Palazzolo-Vibonese e a proposito di serie D arriva un altro no alla Vibonese questa volta dal Consiglio di Stato che respinge l'istanza con la quale si chiedeva la sospensione in via cautelare e di conseguenza la riammissione in serie C uno diverso rispetto a quello pronunciato dal Tar del Lazio i giudici della sezione quinta hanno infatti ritenuto impregiudicata ogni dedotta questione di diritto ma allo stesso tempo non hanno voluto turbare l'ordinato andamento dei campionati che risultano in stato di avanzato svolgimento quindi il Consiglio di Stato apre uno spiraglio alla causa della Vibonese che potrebbe ottenere giustizia nell'udienza di merito che si terrà nei prossimi mesi e a proposito abbiamo raggiunto telefonicamente il direttore generale della Vibonese Danilo Beccaria comunque è pure giusto che non dava la sospensiva perché bloccare il campionato adesso avrebbe creato un danno enorme ad altre squadre e non era giusto però attendiamo di entrare nel merito della faccenda noi abbiamo chiesto la sospensiva però dobbiamo discutere il merito quindi il merito è quello che la Cisne deciderà se avremmo ragione a me noi vogliamo in quanto c'è riconosciuto che avevamo la sentenza del 24 sia confermata perché quella lì è solo sospessa quella sentenza di un gioco doveva essere legata non è terza è solo sospessa quindi prima o poi qualcuno l'andrà a discutere purtroppo sospendendo quella sospende l'effetto della riammissione quindi ci hanno chiamato a giocare in Serie B noi avevamo chiesto di sospendere i campionati all'inizio poi siccome hanno rinviato e rinviato e rinviato hanno fatto apposta per farsi giocare era prevedibile che adesso si sarebbero pronunciati sul fatto negativo la loro strategia era questa far giocare per perdere tempo però poi quando si entra nel nocciolo della questione e là vengono vedere come se la sbrigano perché Massina non aveva la posizione doveva essere promesso e non lo è stato e così facendo facciamo il campionato e con questo è tutto grazie per l'attenzione e buona serata visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizie la Calabria la Calabria che fa notizia o che fa notizia